Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support. Io sono Doc e sì, mi hanno scammato, truffato, raggirato, ditelo come volete, ma tanto il concetto di fondo non cambia. Se vi ricordate un pochino di tempo fa nel video dedicato allo shortage, il quale se vi siete persi vi lascio ovviamente linkato qui sotto in descrizione, vi avevo reso partecipi del mio allora ultimo audace acquisto online, il quale con il senno di poi si è rivelato essere una monumentale fregatura e oggi ve ne voglio parlare. Ma prima di cominciare, come sempre, se non lo avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa veramente moltissimo, ancor più che attivando la campanellina delle notifiche riuscirete a rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Che l'attuale disponibilità di componenti sia veramente drammatica ed in costante peggioramento è cosa risaputa, soprattutto poi se siete voi degli appassionati di questo mondo o se state seguendo attivamente il canale. Pertanto potete comprendere il mio stupore quando ho trovato disponibile all'acquisto una GTX 1060 da 6GB ed una RTX 2060 anch'essa da 6GB a circa la metà del prezzo a cui solitamente si trovano online. Ma attenzione, questo su niente po' di meno che Wish, il celeberrimo store cinese dalla dubbia fama, per così dire, di conseguenza diciamo che l'esito era quanto mai prevedibile. Ancora più poi, tra l'altro, per il fatto che io in passato, davvero tanti anni fa, avevo già acquistato un tot di oggetti, un discreto numero di oggetti da Wish, i quali mi erano sistematicamente arrivati o rotti o manchevoli da alcune parti o non erano proprio arrivati perché erano stati persi durante il trasporto. Di conseguenza capite che con delle basi di questo genere non si raggiungevano neppure le condizioni minime necessarie all'acquisto. Tuttavia, e qui casca l'asino, vuoi perché erano le 6 del mattino? Vuoi perché accettavano Paypal? Vuoi perché il sito mi continuava a fare insistentemente presente che potevo usufruire di un esclusivo sconto di bentornato? Vuoi perché evidentemente sono masochista nell'animo? Non lo so, francamente non mi è dato sapere, ma ciò che so con certezza è che me le sono portate a casa per 250, cucuzze in totale, un prezzaccio se consideriamo l'attuale andamento di mercato. Ma in realtà, come potete ben immaginare, le cose sono andate esattamente come era prevedibile. Dopo una prima partenza anche ottimistica, devo dire, dei pacchi perché sì, mi sono stati spediti separatamente, arriviamo al 2 ottobre, giorno in cui vado a controllare il tracking di essi e mi accorgo che la RTX 2060 risulta ancora in attesa presso il centro di smistamento cinese, mentre invece la GTX risulta già arrivata alla dogana italiana. Lì per lì non do molto peso alla cosa, anche perché poteva essere il classico pacchetto cinese in ritardo, come diciamo ne capita 9 volte su 10, ecco. Per cui continuo a monitorare normalmente la questione fino al 10 di ottobre, quando ecco che mi arriva il primo dei due, ovvero la GTX 1060. Del suo gemello però ancora nessuna traccia e anzi il tracking risulta ancora oggi fermo al centro di smistamento cinese, per cui chissà dove l'avranno infilato. Di conseguenza ho fatto una chiamata a PayPal e aperto una pratica di contestazione che si è praticamente istantaneamente convertita in reclamo, a causa della non risposta del venditore. Tempo 5 giorni e ho riottenuto i miei soldi, quindi in realtà fino a lì tutto bene. Ma veniamo ora a parlare di questa, la GTX 1060, la sedicente GTX 1060, che non so voi, ma io sono poco convinto che Wish me ne abbia mandata davvero una originale. Vediamolo insieme. Et voilà, ecco un tipicissimo imballo Nvidia originale al 100%, con tanto di stampe sfocate in ogni dove e l'immagine di una, credo, Audi R8 avvolta dalle fiamme e questo font davvero accattivante che lasciano presagire la belva elettronica che si nasconde al suo interno. Tech? Plurible rosso fuoco proveniente dalla peggio discarica di Shanghai, di uno spessore tanto infinitesimale da risultare quasi impalpabile al tatto. Che figliata! Niente polistirolo o altre imbottiture del caso, perché a noi le schede video piacciono shakerate come un buon whisky sour all'ora dell'aperitivo. CD driver originale come una borsa dolce gabbana a 5 euro e zero libretti di istruzioni o manuale d'uso, perché si sa, noi uomini andiamo a naso. E chi meglio di me può dirlo. Ma passiamo ora al pezzo forte, una scheda video dichiarata a modello GTX 1060 senza il ben che minimo backplate, più corta di quanto dovrebbe essere e... oi boh. Manca il connettore di alimentazione. Forse andrà a batterie o magari a pannelli solare. Ci può stare una soluzione green di questi tempi. Insomma, gente, avete capito, se questa è una GTX 1060 io sono una ballerina del Bolshoi di nome Tatiana. Ma ecco che andandola ad installare su di un computer abbiamo la conferma definitiva da gestione dispositivi, ovvero che questo immane eccesso a pedali. Altro non è che una GTX 1050 Ti, la quale, e ve lo dico a voce per risparmiarvi tutte le mie tribolazioni in fase di installazione dei driver ufficiali, non viene riconosciuta dal programma Nvidia come originale. E anzi, a dire il vero non viene proprio riconosciuta come scheda Nvidia in generale. Pertanto alla fine mi sono dovuto arrendere ad utilizzare i driver forniti con il CD che accompagnava nella scatola questa aberrazione tecnologica. Al che però, attenzione, per voler arrivare in fondo alla questione ho deciso di scaricare GPU-Z, ovvero un software per chi tra voi non lo conoscesse in grado di analizzare da capo a piedi qualsiasi scheda video e riuscire anche a identificare la presenza di un eventuale firmware contraffatto, una funzione estremamente utile soprattutto in casi come questo. E difatti, come era poi logico prevedere, ecco che all'avvio di GPU-Z questo mi fa presente in tutti i modi possibili e immaginabili, inserendolo sia nel titolo, sia in questo enorme logo giallo a forma di triangolo in sovrimpressione, come la scheda che ho per le mani sia realmente contraffatta. Ma attenzione, non è finita qui, perché avendo preso di petto la questione ho deciso di cimentarmi in un qualcosa di, diciamo, un po' particolare, ovvero ho deciso di flashare su di essa un BIOS originale Nvidia relativo, ovviamente, a una GTX 1050 Ti e vedere che cosa succedeva. Tuttavia, nonostante i miei ripetuti tentativi e vi garantisco che ci ho provato davvero tantissime volte, non c'è stato verso di farcela in nessuna maniera. E la cosa che mi brucia di più è che non è la prima volta che tento questo genere di procedura, per cui non stavo andando, non stavo avvantando la cieca e soprattutto odio quando la tecnologia non fa quello che gli ordino di fare. Al che però mi ha cominciato a girare per la testa a untarlo, un dubbio, ovvero non è che forse sono stato doppiamente preso per i fondelli. Di conseguenza ho deciso di applicare il metodo empirico e sventrare come un tonno pinna gialla la scheda mettendone a nudo il chip. Il chip di una GTX GTX 560 Ti. Cioè, non solo questa gente ha messo in vendita una GTX 1060, che 1060 però non è, ma non sapendola mascherare da tale, hanno deciso di improvvisare una GTX 1050 Ti flashando un firmware non originale su di una ancora più vecchia GTX 560 Ti che al mercato mio padre comprò. Magnifico! Entusiasmante! Io vorrei conoscerla questa gente che si inventa simile a Kroki che nemmeno il mago Telma dopo mille anni di meditazione profonda. E tutto questo poi per cosa? Per vendere qualche scheda video in più a gente che, per poco che ne capisca, non può non accorgersi della contraffazione, anche soltanto per il fatto che i driver ufficiali non funzionano. Ad ogni modo, gente scherzi a parte, questa truffa non è per me null'altro che un banale fastidio avendo pagato con Paypal, perché di fatti con il loro supporto ho già avviato una procedura di contestazione che si tradurrà, come nel caso dell'RTX 2060, della mai arrivata RTX 2060, in un rimborso completo. Ed è poi in realtà questa l'unica ragione per cui avevo deciso di lanciarmi in questo assurdo acquisto dall'esito più che mai scontato. Ma purato che sono io l'artefice delle mie stesse sventure, ditemi la vostra. Vi siete mai lanciati nell'acquisto di un qualche oggetto da Wish? Qual è stata la vostra esperienza? Vi è arrivato, non vi è arrivato, ma soprattutto vi è arrivato nel caso quello che avevate ordinato o vi siete trovati una castagna come la mia? Pagate con Paypal o vi affidate alla buona clemenza del grande dio dello shopping? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc e questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale! Grazie! Grazie!